Ehi là, ciao a tutti. Oggi vi mostro quelle creazioni che ho fatto tra ieri e oggi in vista dei mercatini che devo fare nel mese di dicembre. È ancora poca roba rispetto a tutto quello che devo fare per poter riempire il banchetto, però vabbè è sempre meglio che niente. Allora, vi farò ancora venire il mal di male, sì, ve lo annuncio, perché sto ancora girando con l'iPhone, per cui mi dispiace, sarò anche un po' impedita perché giro il tutto, cioè vi mostro il tutto con una mano sola. Però, perdonatemi. Allora, iniziamo con un paio di cabochon. Allora, questo è un cabochon, a meno a me piace tanto, di due colori, è un verde e un blu, blu mare, e ho cercato di incastonarlo richiamando i colori, appunto del verde e del blu, con le drops da quasi 3 mm e sia tutto l'esterno che una parte dell'interno, mentre l'altra parte, l'altra parte, oppla, ho utilizzato dei castoni crystal AB. Poi, vabbè, ho fatto un anellino e ho attaccato per ora questi due anellini. Non so ancora come realizzerò la collana, se con un filo o con della catena, poi vabbè, vi saprò dire. Anzi, penso con della catena, però, boh, mai dire mai. Allora, poi vi mostro questo cabochon, che voi non vedete sicuramente bene il colore. Questo cabochon è quello che ho acquistato da Bricolart, questo, quest'estate, lilla, con la farfalla in rilievo bianca, e niente, non c'è verso. Questo, invece, ho già messo dei cordini viola, viola chiaro, eh, voi sembra un tutt'altro colore, però vabbè, eh. E niente, ho utilizzato degli Swarovski ametista per, diciamo, per ridefinire il tutto. Andiamo se mette a fuoco. No, no. Vabbè. Poi, eh, ho utilizzato lo Swarovski, quello vale che ho preso in fiera domenica scorsa, per realizzare questo bellissimo castone. Aspettate che sposto la rampada, perché magari si vede anche forse qualcosa. Questo bellissimo castone, crystal, normale. Ovviamente, ovviamente, la luce che emane, eh, non c'è telecamera o iPhone al mondo che lo riesce a riprendere. E, niente, l'ho circondato tutto da Swarovski da, da 4 mm, e, eh, ho utilizzato, eh, delica, eh, color, eh, argento. È un bellissimo argento, anche strapagato, oltretutto. E poi ho messo una, una catena per, per richiamare il tutto. Vediamo. Niente, non c'è verso. Sembra azzurro. Ma. Ste lampade, adesso l'ho comperata e mi lamentavo, mi lamento. Prima non ce l'avevo e mi lamentavo, vabbè. Poi, ho usato, ho fatto questa semplicissima collana, aspettate, eh, questa semplicissima collana, e anche qua non si vede una cippa, eh, utilizzando le, le perle, eh, blu, eh, che avevo, che avevo preso a Lisbona. Eh, una collanina semplice, con i suoi orecchini. Mentre queste undine le ho prese a, domenica, a un mondo creativo. E mi sembrava una creazione semplice per chi deve fare un regalo, insomma, non vuol dire fare niente di impegnativo. Allora, poi, ho fatto questa collana, in verità molto semplice, eh, mettendo questa pallina, e vai. Questa pallina, tutta sbirluccicosa che vi ho mostrato, con il suo, la sua pinzetta, sempre con tutti i brillantini, e mettendo questa perla, pregiata, che avevo preso in Abruzzo quest'estate, in un semplice cordino. Ecco, anche qua la luce che fa la, la mega perlona qua, non si vede, non si vede. E poi, velocemente, una su due collane uguali, in due colori. Eh, eh, qua voglio vedere, ma, forse si vede già. Questa, che è col gufo, con un gufino. L'idea l'ho presa, appunto, alla fiera, con queste palline di feltro. Io non ho mai realizzato collane col feltro, però, insomma, mi è piaciuta e ho detto perché no. Insomma, vabbè, i colori voi li vedete sul blu, invece sono sul verde. Questi sono i misteri. Voglio ora vedere come vedete questa. uguale. Ah, questa già, la capite un po' di più. Su queste tonalità di rosa bordeaux, sempre con il cuffetto. E tutto. Insomma. Anzi, vi lascio qua tutto. Questo è tutto quello che ho realizzato. Poco. In verità, poco niente rispetto a tutto quello che dovrò fare, come ho detto prima. Però, vabbè. Ah, vi mostro anche come il cabochon che vi avevo già fatto vedere prima del mio viaggio di nozze, l'ho messo dentro. Alla fine ho scelto una semplice collana dorata, insomma, per far risaltare di più il cabochon. Allora, e vai. E niente, in queste sere continuerò a lavorare, vi mostrerò man mano tutto quello che ho realizzato. Te, guarda qui che adesso vi riuscite a vedere bene i colori. Un bacio a tutti. Ciao!